La Big Generation è un movimento culturale ad ampio spettro nato negli Stati Uniti nell'immediato secondo dopoguerra. I giovani scrittori e intellettuali che ne fanno parte promuovono un'idea rivoluzionaria dell'arte e della letteratura, sganciata dall'università e dalle istituzioni culturali tradizionali, la cosiddetta cultura underground, la cultura On the Road. Allo stesso tempo essi contribuiscono a diffondere una nuova sensibilità, profondamente ostile ai valori della società borghese e capitalista. Ecco come descrive la Big Generation Jack Eruac, scrittore e autore del celebre manifesto della Big Generation On the Road, scritto nel 1951 e pubblicato nel 1957. La Big Generation è una generazione di pazzi hipster illuminati che improvvisamente spuntano e scorazzano per l'America. Seri, curiosi, vagabondi che si spostano ovunque in autostop, straccioni, beati, belli, di una nuova aggraziata bruttezza, eroi sotterranei che avevano finalmente voltato le spalle alla macchina della libertà occidentale e che prendevano droghe. Amavano il bop, avevano lampi di genio, sperimentavano il disordine dei sensi, parlavano strano, erano poveri e contenti, profetizzavano uno stile nuovo della cultura americana, un nuovo incanto.